Dopo 20 anni di abbandono, lo storico Palazzo Fondi in Via Medina viene restituito ai cittadini per diventare un centro polifunzionale e uno spazio contemporaneo di arte e cultura. La valorizzazione dell'edificio si inserisce in uno speciale progetto di rigenerazione urbana temporanea dell'Agenzia del Demanio. Si mettono cioè a disposizione della collettività beni e aree urbane dismesse per ospitare attività culturali, artistiche e sociali anche in periodi limitati prima di destinarli a nuove funzioni. Dal 2019 prenderanno il Via infatti i lavori per realizzare a Palazzo Fondi gli uffici dell'Agicom. Fino ad allora saranno ospitate negli spazi dell'immobile mostre internazionali ed eventi che contribuiranno tra l'altro a ridurre l'investimento necessario alla riqualificazione dello stabile. Il nuovo modello di rigenerazione urbana temporanea è stato sviluppato e realizzato dall'Agenzia 99 che ha già sperimentato con successo operazioni simili a Roma. È un progetto estremamente inclusivo perché appunto permetterà a tantissime realtà, tantissimi progetti anche a dei singoli di poter rientrare all'interno dell'edificio avendo quindi la forza anche da singolo di poter aprire quelle porte. Sarà un progetto che durerà un anno fino a maggio del 2019 quando comincerà invece l'operazione di valorizzazione definitiva dello spazio, ma in questo anno si alterneranno molte realtà. C'è un po' di tutto, la rigenerazione di beni pubblici, un uso partecipato verso la collettività, più enti che ci lavorano insieme nell'interesse della collettività e per mantenere istituzioni importanti nella nostra città. Devo dire anche in generale sui beni demaniali, i beni pubblici e collettivi della nostra città stiamo facendo tanto. Io vorrei ricordare che nella nostra città siamo stati tra i primi ad avere delle delibere sui beni comuni, sulla valorizzazione sociale del patrimonio immobiliare e sull'uso temporaneo di beni anche abbandonati alle collettività di abitanti. Quindi questa iniziativa, che chiaramente è diversa, anche meno dal basso perché è più finanziata sotto certi aspetti, ma va in linea con quello che si sta facendo nella nostra città. Noi dobbiamo recuperare alla città in modo intelligente e valoriale ciò che prima è stato anche abbandonato. Ad aprire il cartellone di iniziative sarà la mostra naturalistica Poison, il potere del veleno, che da mercoledì 14 marzo arriva per la prima volta in Italia. Dalle mostre internazionali che saranno alloggiate all'interno del primo piano, la prima Poison che aprirà domani e la seconda Real Bodys che arriverà nel mese di gennaio, ci sarà una tappa del Napoli Teatro Festival nel mese di giugno. Cattleya ha scelto l'edificio per base di una importantissima produzione televisiva, ma ci sarà tantissimo altro, ci saranno sale di prova, shooting fotografici, ci sarà la possibilità di utilizzarlo per il co-working. Questo spazio sarà utilizzato per installazioni artistiche con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti e dell'Università di Napoli.